fateci sapere se ci vedete e ci sentite in maniera abbastanza buona se ci muoviamo perlomeno grazie voglio andare a controllare anch'io adesso adesso ci muoviamo mi sa che ho capito secondo me siccome a Twitch magari sanno che ero io allora per farmi sentire a casa hanno detto facciamo come lui andiamo fuori tempo come fa sempre allora giusto per ambientarci nella community no vabbè si scherza stiamo facendo 6 spettatori di media con immagini ferme comunque c'è un ottimo risultato siamo incredibili siamo i nuovi David Lynch niente comunque io non sto capendo anche perché io mi vedo che ci muoviamo quindi è un ah no ma Kamel dice che ci stiamo che stiamo muovendo perfetto Kamel fammi sapere se ci sono eventuali problemi perché adesso io sto inquadrando la cosa che credevo fosse è che stavo inquadrando OBS invece io dovrei inquadrare credo Discord altrimenti Discord non mostra cioè se non sto guardando Discord è come se noi non per risparmio energetico eccetera non mostra i movimenti invece no siamo perfetti ok ok adesso ma se è risolto da solo è perché adesso siamo tornati pure a 30 frame quindi è proprio una cosa di secondo me è un calo di internet che ho avuto giusto per farmi fare i capelli bianchi farmi sudare un po' perché tra l'altro ho questo aspetto terribile piccola parentesi giusto per cominciare col botto 20 minuti di ritardo eccetera perché abbiamo avuto in famiglia un piccolo una piccola bella in realtà io personalmente l'ho avuta un piccolo spavento di Covid e quindi che poi non si è risolto in nulla però sono stato due giorni tipo il conte di Monte Cristo chiuso in questa stanza senza fare nulla e mi sono fatto la barba stamattina alle 11 prima di andare in live con una lametta vecchissima trovata vecchissima ma nuova cioè strada no 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 io anni fa usavo le lamette quelle lì a quattro lame a quattro lame della che cazzo era la gillette insomma senza il rasoio in sé proprio la lama le quattro lamette mi sono fatto la barba mi sono aggiustato così perché ho detto devo fare la live infatti non si vede ma ho la barba lunghissima comunque sto veramente come un disperato però quindi questa è la motivazione però non bastava ci voleva anche un po' di stress di ansia e di casino insomma quindi ok adesso possiamo cominciare quindi dicevamo allora io volevo quindi no la conversazione è nata innanzitutto ti ringrazio per essere venuto perché sei ovviamente ma io tra l'altro ti cito sempre non so se lo vabbè tu mi hai detto che hai visto l'ultima live ti avevo recuperato un paio di live sì le più recenti io vidi di tuo tra l'altro proprio nella primissima live ora che ci penso vidi il comunismo è una cosa bella e lo abbiamo rivisto perché qualche settimana fa quando Berlusconi è stato male abbiamo ho fatto uno speciale con tutti i miei video dove dedicati a lui tra virgolette dedicati e ovviamente per far vedere la mia versione che ho fatto poi ho fatto vedere anche il tuo insomma ho parlato della differenza di stile che c'è che è incredibile insomma perché tu sei un artigiano diciamo io invece sono un cazzaro che fa le cose per far ridere quindi sì per quello quando prima tra l'altro non so nemmeno se si è sentito quando tu hai detto io vado sempre fuori tempo ma fuori tempo ma infatti ti volevo i primi lavori diciamo che lasciavano molto a desiderare non che nuovi siano chissà cosa però insomma parliamo pure di video di 2013 2014 sì allora bisogna distinguere ne parlavo l'altra volta con Camel è una cosa che abbiamo tutti noi cioè quando iniziavamo a fare i video nel proprio nel primissimo periodo e per forza di cose non eravamo a livello personalmente cioè non ci avvertivamo a livello a cui siamo arrivati adesso alla gente piacevano e quindi ah si si è sentito e Camel si è incazzato quando ha detto che andavi fuori tempo mannaggia sì ma è una cosa che abbiamo tutti cioè riguardiamo i nostri vecchi video diciamo eh però non erano belli non erano buoni dobbiamo da una parte capire che è vero cioè il pubblico deve capire che è vero che siamo migliorati perché il percorso tra virgolette artistico per quanto riguarda me ovviamente tra virgolette non cambia sempre cioè va sempre a migliorare io una cosa un ritmo di un video una battuta non la faccio allo stesso modo oggi rispetto così come l'avrei fatta quando avevo 15 anni ho cominciato a fare i video però contemporaneamente a molti può anche non piacere lo stile nuovo molto veloce per quanto riguarda me oppure i cambiamenti che ci sono quindi ci sono due percezioni diverse fondamentalmente ha sempre ragione il pubblico cioè quando uno vede i risultati i risultati arrivano lo so per esempio che per quanto riguarda me a me piace molto lo stile lo stile che sto avendo negli ultimi video che poi sono pochi che è uno stile proprio particolare che quasi trascende la comicità cioè io faccio video che involontariamente sono quasi horror alcuni tipo l'ultimo che ho fatto su Caparezza ma per me non lo sono ed è quello che mi fa ridere è quello che mi piace fare capisco che abbia molto meno visualizzazione e in generale molto meno engagement di pubblico anche come visibilità nuova come gente che se lo va a rivedere rispetto a un video di dieci anni fa che però che è più lento tagliato male con mille errori che però la gente piace perché da una parte perché è affezionato da un'altra anche perché magari faceva più ridere insomma sono concezioni diverse insomma però se parliamo di oggettività sono d'accordo sì però se parliamo di oggettività tipo la musica ecco come te Kamel che fate fondamentalmente musica cioè siete perfetti il problema qual è cioè è proprio insomma a parte il fatto che poi sì infatti io ti volevo chiedere come l'ho chiesta vabbè a Kamel lo so ma tu sei un musicista cioè tu hai questa precisione perché suoni e quindi io sì sì no io suonavo in passato vabbè ora streppello ogni ogni morte di papa però no io a scuola alle scuole medie avevo iniziato a suonare pianoforte tastiere e da lì poi fuori dalla scuola avevo iniziato a fare proprio scuola di musica per forse tre anni tre o quattro anni poi dopo purtroppo e lo dico sempre sono stato molto stupido ho lasciato perdere perché un po' mi annoiava un po' non volevo stare sempre solo sulla musica classica eccetera eccetera allora ho voluto smettere però sì diciamo che io avevo iniziato anche perché ero spronato dal professore delle scuole che ci insegnava musica nella scuola e diceva sempre che avevo il cosiddetto orecchio musicale cioè a orecchio sentivo le note azzeccavo più o meno gli accordi senza magari guardare lo spartito o senza conoscerlo uno spartito quindi da lì avevo iniziato a capire che magari potevo iniziare a suonare magari diciamo mi poteva piacere quindi per circa tre anni è stato così diciamo quella cosa a orecchio ce l'ho sempre e quindi forse è per quello che mi ci diverto anche a fare pop musicali oltre alle pop normali anche perché è curioso il fatto che io ho iniziato con la prima pop in assoluto che era musicale che era su Buzz Spencer e Terence Hill cioè proprio sono andato a rotta di collo subito lì a sfracellarmi però ho voluto vedere vediamo se magari in quegli anni in cui studiavo in modo serio vediamo adesso se li metto su queste robe demenziali cosa viene fuori l'orecchio il cosiddetto orecchio e quindi ecco se vogliamo dire tra virgolette che suono si suono ma ecco solo pianoforte e tastiere a me è polistrumentista incredibile è un grandissimo io per esempio ho suonato tra l'altro io ho avuto una storia praticamente diametralmente opposta alla tua cioè io feci questa scuola media che era a indirizzo musicale cioè aveva in più delle ore di musica mi sembra due ore ma non di musica cioè oltre alla musica due ore di strumento musicale quindi ti insegnava suonare uno strumento gli strumenti erano quattro era il pianoforte la chitarra il violino e oddio forse la batteria sì e cioè le le percussioni e praticamente c'era questa cosa che chi era scarso doveva andare a fare il violino era era obbligatorio praticamente fare lo strumento musicale quindi chi era scarso prendeva il violino io praticamente c'era il giorno in cui dovevi tipo Hogwarts che ci sono le quattro case e arrivi lì e c'è il cappello e te lo metti e nessuno vuole fare il violinista arrivo e però era un testo non violino non violino era un testo ovviamente sulle capacità quindi dovevi sentire ti facevano sentire una nota cioè boom dovevi dire bassa o alta e poi ti dicevano bello premi con le dita fai vedere le mani perché dovevi per suonare la chitarra mi sei il pianoforte vedevano le dita eccetera eccetera comunque io sono andato mali ero molto nervoso quindi ho perfino fatto schifo non solo io ho le dita comunque grosse perché ho praticamente le mie dita sono grosse quanto il palmo della mano la classica mano calabrese siciliana insomma quindi non non ho le mani fine prima cosa seconda cosa ero molto nervoso vado lì mi fanno ma tu rispondimi se questa nota è alta o bassa boom alta boom bassa perfetto ovviamente mi mettono a fare il violino e i miei si incazzano perché dicono no ma noi volevamo che tu imparassi a fare a far fare la chitarra ma come così per miracolo si trova una ragazza che voleva fare il cambio cioè era stata messa a chitarra e voleva fare il violino e quindi ci siamo scambiate e così ho suonato per tre anni praticamente ho suonato la chitarra come materia che faceva proprio media cioè con i voti del professore che facevano media con tutte le altre materie e ho dovuto portarla pure alla tesi per esempio è stata una cosa molto bella però ecco io non mi definisco musicista perché prima cosa non ho mai avuto proprio la passione di suonare ce l'ho imparato a fare perché perché sta lì cioè ero una materia ho imparato a suonare la chitarra ricordo alcune cose guarda una volta ogni due tre anni prendo una chitarra mi metto a strimpellare qualcosa ma non di più e e poi non è proprio suonare la musica mi piace molto ma suonare non è una delle cose che mi piace di più da fare quindi Kamel giustamente dice il violino che è lo strumento più difficile lo fai fare ai novizi ma perché credo che allora poi funzionava la scuola era anche abbastanza buona nel senso che i più bravi venivano poi messi all'interno dell'orchestra scolastica e si facevano poi mi sembra oltre ad eventi in generale dove l'orchestra andava a suonare poi c'era alla fine dell'anno il saggio dove tu suonavi e tutto anche lì i più scarsi tra i bravi che passavano comunque all'orchestra facevano i bassi quindi praticamente eri un bassista cioè boom boom durante tutta l'orchestra poi più si andava avanti più c'erano i bravi facevano il primo chitarrista diciamo e io in realtà poi verso la terza media quindi ero partito molto basso il professore mi odiava tra l'altro era un professore stronzissimo che era a me ricordava cioè io quando poi dopo ho guardato Scrubs era identico a Cox come comportamento e quindi era stronzissimo e mi odiava però poi mi ci sono me perché la chitarra almeno io l'ho trovata come una cosa dove tu ti ci metti e diventi bravo e qui per forza di cose e quindi così come il solfeggio cioè veramente matematica devi imparare il solfeggio cioè le note come funzionano come leggerle non è complicato basta che stai lì lo impari eccetera insomma e quindi mi ci sono un po' impegnato arrivai in orchestra e me ne sono uscito con distinto in chitarra però poi non l'ho più continuata perché appunto la vedevo come una materia e non come una passione non è mai stata una passione per me per quanto poi dopo qualche anno mi sono preso la mia vendetta sul violino perché poi l'ho comprato ma lo utilizzo più che altro così anche quello quello un po' più spesso una volta all'anno mi metto lì lo strempello un po' faccio un po' di pizzicato ma nulla di serio anche lì perché poi ecco a lì non ho mai imparato a suonarlo per bene lì sono autodidatta al massimo però io la musicalità ce l'ho abbastanza sviluppata naturalmente a parte insomma il test che non passai alle scuole medie però non ho mai messo ecco per esempio sì con il pitch delle note a volte andavo a braccio e questa cosa mi aiutava il fatto è che io cioè la mia interpretazione di pop musicale è sempre che io mi metto lì e devo mettermi a suonare a suonare devo mettermi a fare cose come se fosse lo dico sempre una scultura cioè io devo fare una cosa artistica devo fare devo andare avanti con quello che mi sento in quel momento e invece mi sono trovato spesso a fare pop musicali dove c'è l'esatto opposto cioè la struttura della canzone è già fatta tu devi prendere i pezzettini e li devi mettere uno dopo l'altro e devi far sì che che ogni cosa combaci che non ci siano stonature e significa per quanto mi riguarda un lavoro infinito allora questa cosa mi tende a scorrere un inferno è un inferno letteralmente sì quindi mi scoraggia e finisce che lascio stare e dico no vabbè dai ah anche tu me l'hai cannato il test vabbè dai allora mi fa piacere perché vuol dire che no perché sai poi sono quelle cose che dici no ma io ho sbagliato ho detto basso invece di alto però in realtà la sapevo perché non capisci a un certo punto se te lo dici per consolarti oppure perché è effettivamente vero insomma quindi mi fa piacere perché se l'hai sbagliato però tu vuol dire che effettivamente ci sta insomma che uno può aver sbagliato perché ci sta figuriamoci e no capito quindi invece poi vedo video come i tuoi che sono perfetti tipo appunto l'inizio di del comunismo è una cosa bella anche soltanto quella parte iniziale è una cosa cioè sai come l'ho fatta io nella versione mia quando fa e io ho fatto la prima volta ctrl c ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v sì sì immagino aggiungi il pitch fine andiamo avanti che tanto dura tre secondi la gente se ne accorge perché no ma infatti hai fatto bene ma sai perché perché ecco io non ho la pretesa di dire che sono bravo tra l'altro mi ricordo ai primissimi tempi che io facevo video che la gente anche addetta ai lavori mi veniva giustamente a dire eh però Duccialdo non è tecnicamente bravo quando si tratta delle note delle cose sì è vero perché per me il video l'importante è che faccia ridere cioè per me è più importante che ci sia come si chiama vabbè cosa all'inizio che fa che parla di Berlusconi che dica ho votato e compare la cosa di AN piuttosto anzi in realtà che era del movimento sociale piuttosto che far ridere perché il pitch è perfetto sicura in realtà tra l'altro ecco un pitch buono così come un sentence mixing fatto per bene aiuta secondo me a far insomma a dare un senso di serietà e quindi a far ridere quindi per esempio sai cosa il fatto è che quello che dici tu la serietà dopo cioè se parli di serietà dopo entra in gioco l'altro discorso che è ok non faccio più questo per divertirmi o per divertire gli altri ma per far vedere agli altri la tecnica la pratica in modo che solo dopo gli altri vedono quello come solo un esercizio di stile e non è più la cosa comica o simpatica o satirica quello che vuoi però dopo diventa solo un esercizio di stile cioè può diventarlo ovviamente c'è chi lo fa liberissimo però è così come dici tu è quello il discorso dopo allora devo dire ecco perché allora a te c'è da fare questa distinzione le cose che più mi piacciono di te musicali vabbè in realtà poi non è vero perché ecco appunto il comunismo è una cosa bella mi è strapiaciuto che è proprio una youtube musicale tra virgolette classica cioè inizia come musicale finisce come musicale ci sono 3000 riferimenti eccetera ma anche nel video su fracchia che se lo ricordo bene è fatto in onore di quando morì Paolo Villaggio sì per Paolo Villaggio ha quella parte finale che è musicale che è una cosa che a me piace molto quando così di botto inizia la musica e tu tra l'altro hai fatto quel collegamento con la radio senta e poi balliamo balliamo cioè è collegata bene appunto lì è perfetta fa ridere dura anche abbastanza se ricordo bene mi sembrava 20 secondi 30 secondi forse sì una cosa del genere sì sui 30 secondi perché avevo ripreso solo il ritornello che in quel caso era Mario Galaxy eh sì perché non mi andava di collegarlo a caso senza motivo perché lo sai cioè quando faccio le book normali devo trovare un senso logico nello storytelling tu che sai no queste cose dello storytelling allora ho pensato mettiamo in png uno stereo una radio facciamogli la mente sulla scrivania accende e c'è Mario Galaxy a caso ho preferito fare così piuttosto che stacco a casissimo arriva Super Mario cioè non andava a me tutto qui sì 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 no ti capisco perché a parte il fatto che no in realtà proprio trovavo ricordo la prima volta che guardai il video dissi ma cioè rimasti un attimo scioccato dissi ma perché questa gag della radio non la sto capendo con la musica e così sai uno pensa semplicemente è una gag autoconclusiva finisce lì senta ok poi invece parte la musica e dici ah una bellissima idea perché appunto la ricolleghi appunto la logica ci sta ci sta assolutamente insomma quindi è ci poteva stare sì ma che poi tra l'altro forse anche tu ricordo avevi fatto un commento insieme ad altri per dire di farla intera cioè tipo che volevate la versione intera poi non l'ho più fatta in realtà ci penso a volte quando ricapito lì dico eh però vedi peccato chissà se in futuro forse si potrà fare qualcosa per esempio a me guarda vengono le idee che sono molto buone anche per pop musicali però io una volta mi ci sono messo tra l'altro poco tempo fa perché feci la pop di we are number one nel 2017 quindi sì quattro anni fa ma diciamo recentemente perché io lo considero recente nel senso che è il mio ultimo stile quindi lo stile più veloce più attuale diciamo mio e lì con il fatto che le note dello strumento del sax che sta suonando Robbie Rotten sono pulitissime mi ci diverti parecchio infatti feci più musichette e notai che era anche facile pupparlo cioè mixarlo e farlo e giocarci sopra con le musichette quindi una volta feci cioè andai a ripescare robe del passato tipo la musica di Montesi quella canzone di Richard Benson che dovrebbe essere la melodia in re si chiama Mokamel mi spara sicuramente comunque mi ci diverti parecchio e dissi ah ma vedi alla fine è abbastanza semplice allora colto da questa cosa iniziai questo progetto che era una una musicale su la musica di Papyrus di di Undertale che ho fatto ho fatto anche lì ho fatto la parte musicale diciamo perché poi ovviamente quando fai una musicale fatta bene e io tra l'altro ho scoperto di averla mai fatta bene devi fare non soltanto musica e una base che copra ma devi fare più strumenti per farla più complessa io ho fatto la parte superiore adagio in re esatto melodia in re però mi ricordavo la nota invece dai pensavo di aver detto proprio una cosa invece me dai me dai no comunque ho fatto la prima parte che mi divertiva di più ho fatto la batteria tra virgolette della canzone e poi il resto l'ho lasciato stare perché il progetto è rimasto lì da anni incompiuto e mi è sempre dispiaciuto il problema è che secondo me è difficile anche da completare per qualcun altro o da pubblicare così perché è proprio incompleta quindi per quello poi mi sono sempre ritrovato ad arronzare questo tipo di progetti perché dici vabbè faccio una cosa così che però perlomeno è pubblicabile la metto e la pubblico e al pubblico magari piace insomma quindi è un po' il mio il mio cruccio insomma anche in quel caso per carità se piace a te nessuno ti vieta di caricarla cioè lì sta a te se vuoi metterla proprio completa e fare ogni strumentazione però sì lì è particolarmente ardua come cosa sicuramente non lo fai in 448 poi dipende anche i tipi di basso ecco tu hai fatto l'esempio di weird number one il basso si può interpretare anche come il pianoforte sotto che fanno le basse proprio letteralmente infatti c'è pure lì devi stare lì traccia per traccia e a volte la voglia non c'è eh lo so lo so lo so a te poi dopo ecco lì subentrano e poi mi pare ne parlavate pure con camel subentrano gli altri programmi oltre a Vegas c'è poi dopo c'è Melodyne o anche c'è anche chi usa FL Studio ma so proprio i super professoroni che vanno al di là di noi altri poverissimi c'è gli altri quindi c'è Azonsalus e tutta la compagnia non dell'anello però di musicisti veri e propri e quelle robe sono eccezionali si si pure lì dipende cioè se vuoi andare sul comico o vuoi andare sul ah prova di musica tecnica fighi a entrambe le cose è chiaro sì perché io guarda sì ovviamente tu sei liberissimo sempre di caricare quello che vuoi su youtube sul tuo canale nessuno ti dice nulla io ricordo che quando mi criticavano dicendo eh ma tecnicamente non va bene dicevo cioè o pensavo più che altro perché poi non c'è mai stata questa polemica con qualcuno però pensavo che a me davano proprio fastidio quando magari guardavo qualcuno che era completamente bravo che però magari poi in quegli anni cominciavano a uscire quelle puppe musicali che avevano quelle visual assurde fatte benissimo che però mi lasciavano un senso di vuoto dentro perché non facevano ridere e tu magari utilizzi un che ne so uno youtuber un personaggio però gli fai cioè sfrutti l'audio per esempio ecco se sfrutti l'audio perfetto in cui fa un vocale e basta gli fai dire ah 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 e non gli fai dire non usi che ne so la frase simpatica che non sarebbe perfetta però contemporaneamente ti strapperebbe un po' un sorriso tipo uno zeb che usi un urlo di zeb perfetto e non usi una frase famosa di zeb ti dici sì però mi lascia un attimo cioè potevi anche non mettere zeb potevi usare una nota la registravi e usavi la stessa cosa cioè veniva identico fondamentalmente quindi è quello il punto e infatti per esempio quando feci il video su Berlusconi utilizzai l'Evviva che è decrescente cioè vai Evviva ed è è stonatissima quella parte però non potevo non mettere l'Evviva perché è proprio il simbolo cioè non perderebbe il senso tutta la struttura di quella cosa e quindi è stonata però ho detto vabbè appunto per quello ho anche messo un po' le mani avanti ho detto sai io non faccio cose tecniche non ho la pretesa di fare cose tecniche ho avuto una leggera infarinatura musicale ma non mi considero un musicista quindi per carità la lascio ma sia chiaro da questo punto di vista nemmeno io invece la finisco chiariamo subito non è che sono musicista a livelli di appunto di un camel o chiunque altro perché vabbè loro sono musicisti perché suonano perché magari fanno i live vedi sempre a Zonsalus ma sì diciamo è un hobby ormai cioè io lo considero hobby ma non è che sono musicista questo sia chiaro tutto qui sì 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 vabbè poi comunque sei sicuramente più portato di me insomma e e poi c'è l'altro lato della medaglia che invece sono le youtube povere e proprie in cui tu comunque hai sempre mostrato di avere anche un un ottimo senso dell'umorismo proprio cioè ci sono alcune battute il video di di mi viene da di Belle come si chiama della principessa ma di Gaston esatto come si chiama il film la bella e la bestia la bella e la bestia esatto ci sono delle battute che sono dei tempi comici che sono geniali mio padre non è pazzo è lezzo cioè e poi c'è la gag di Zeb anche lì lo storytelling cioè l'esplosione che poi porta Belle davanti che poi sarebbe davanti praticamente nella parte finale del film cioè che manda avanti la trama cioè insomma non è una cosa da tutti è una cosa abbastanza rara quindi appunto e soprattutto sai cosa mi ha sempre colpito molto la versatilità sia di Dieghe che di Kamel in realtà la versatilità cioè perché io magari posso essere bravo a fare cose che fanno ridere però sono una schiappa per quanto riguarda il fare video musicale appunto quindi mi baso sul far ridere e basta invece voi siete bravi in entrambe le cose e questo è un grosso punto di forza perché io ho sempre pensato che quando la gente cioè quello che colpisce la gente quello che la gente che alla gente rimane impresso quando guarda un video è pensare che non può cioè è pensare che rimane non è pensare e avere quella sensazione che non si sa come si sia potuta fare una cosa del genere e la musica aiuta molto cioè quando c'è una parte musicale perfetta la musica ti aiuta molto ad avere quella sensazione che oggigiorno è molto rara da recuperare perché poi le tecnologie sono andate avanti insomma invece voi due ma guarda infatti no vabbè ti ringrazio per tutte queste parole forse è un po' troppo però ti dico no per quanto mi riguarda il fatto dello storytelling sarà anche perché lo dico sempre io fin da piccolo vedevo sempre Blob su R3 quindi saprai più o meno è quel montaggio lì è il montaggio un po' satirico teso a parodizzare anche o un politico o un personaggio famoso di turno e quindi siccome Blob mi ha sempre fatto ridere sono più o meno cresciuto con quel programma lì con il fatto che in famiglia si vedeva sempre ora un po' di meno però mi ha sempre attirato quella roba lì e quindi quel tipo di comicità l'ho voluto trovare in prima persona quindi lì ecco subentra Gaston che tra l'altro io non lo dico quasi mai Kamel lo sa anche Monitor lo sa un po' Monitor Banzina non sto mai qui a autologiare ah quel mio video piuttosto che quel mio video però Gaston è uno dei rarissimi video che io quando lo riguardo dico sempre madonna che roba e non capita quasi mai cioè con quello e pochi altri casi perché vedo che è stato veramente una cosa fighissima e ripeto non lo dico quasi mai però fa ridere cioè il fatto anche di come è stato montato anche all'epoca andava molto la questione Marot e c'è ad un certo punto c'è rigorosa di vedere la torre e lì che metto dietro le sbarre lui cioè quelle semplici cose a me fanno ridere tutto oggi quindi non lo so è divertente sì e poi tra l'altro se ricordo bene era frutto di una collab giusto? sì da 2009 collab di nuovo il disco di Paolo quindi uno pensa magari sai per la collab che poi non è nemmeno vero però diciamo che generalmente fare un pezzo del puzzle è comunque diverso rispetto a fare una cosa autoconclusiva invece lì venne cioè lì sta bene da sola perfettamente quel video esatto esatto tanto è vero che poi dopo più andavo avanti ragionavo sempre sul fatto di magari farò un'altra parte magari no a chi lo sa ho sempre pensato però dopo non ho mai concretizzato beh effettivamente è l'esatto contrario di Fred the Pan io non volevo fare una trilogia io non ci pensavo nemmeno volevo fare solo quel primo video che doveva essere tra l'altro no sense cosa che invece non è riuscita nemmeno lì quindi sempre storytelling maledetto e che mi ha portato a leggere questo o l'altro commento ah ma dai fa una seconda parte fa una seconda parte e così è proseguita insomma eh ma hai mai fatto un video che magari mi sono perso perché io non credo che sia appunto senza storytelling cioè proprio solo gag eccetera volevo provare proprio no sense rotta rotta di collo con un video vecchio che volevo farlo diventare una serie che era sulle pubblicità vecchie anni 90 della pasta barilla forse sì perché diceva dove c'è barilla c'è casa e ci sono una cosa un po' sperimentale che volevo fare a mo' di fumetto i fermi immagini di quella pubblicità anni 90 con fumetti demenziali però alla fine non era piaciuta tanto non aveva fatto abbastanza impatto non piacque nemmeno a me tantissimo e abbandonai la cosa me la sono persa forse era da prima che ti scoprissi sì io l'ho scoperto con il video Dario Moccia scarica Sony Vegas a proposito come ti ho detto prima me lo sono riguardato prima perché preparando la live ho detto no me lo devo rivedere il primo video che ho visto ci sta anche come buon auspicio eccetera ho trovato sotto io lo farei vedere purtroppo no in realtà forse lo possiamo far vedere aspetta ma prova perché sta andando un po' meglio la live proviamo a far vedere lo schermo allora condividi schermo se crasha tutto togliamo tanto abbiamo capito insomma vai eccoci aspetta mamma mia sì comunque quella di Gaston Camel dice che è una pup fantastica piena di chicche e io sono assolutamente d'accordo grazie è vero perché anche quella non l'ho vista prima ma l'ho vista la vedo spesso insomma me la rivedo la riguardo volentieri e la so a memoria tra l'altro è un peccato che Cat Groove che ho usato come sigla non si è utilizzata più spesso perché secondo me era un ottimo meme io se posso dire questo aneddoto così almeno ho sfato questa cosa che non sa quasi nessuno usai Cat Groove perché lo vidi in una pup forse americana comunque straniera di un altro tizio che la usò su stalli e olio e quella è una delle migliori pup che abbia mai visto in vita mia forse Camel la conosce e ripresi l'idea da lì perché quella cosa mi fa morire da ridere in qualche modo la dovrò recuperare quella pup non ricordo nemmeno il nome comunque sì è una delle migliori che abbia è una delle mie preferite in assoluto sì comunque ecco anche questo io sono d'accordissimo con te quando dici non voglio sembrare egocentrico perché anche a me capita che ci siano video di cui sono più orgoglioso e video di cui sono meno orgoglioso e anche io i miei video io dico no questo è veramente mi è venuto proprio bene e quindi insomma lo dico senza problemi insomma mentre mentre altre cose sono venute meno bene insomma comunque il commento lo dovreste vedere ecco no mamma allora a parte il fatto che mi ha fatto non so se sai vabbè tu Dario l'hai conosciuto pure personalmente quindi penso che lo stai seguendo in questi tempi che sta su Twitch che di recente no lo seguivo di più prima beh su Twitch recupero ogni tanto degli spezzoni dove parla o fa reaction di cose che mi interessa no comunque la prima cosa Disney eccetera ah ok ok la prima cosa che mi ha colpito comunque appunto do un po' di spiegazione perché appunto tu forse anche altri non lo sapete comunque è successa questa piccola querelle perché Ciccio Gamer ha visto uno spacchettamento di carte Pokémon fatto da Dario si è sentito in dovere questo recentemente un mese fa si è sentito in dovere di dover fare una storia su Instagram dicendo che non gli interessava quello che Dario stava dicendo riguardo la carta la bellezza dell'artwork eccetera voleva sapere il valore economico della carta e che nell'attesa che questo valore venisse detto gli si stavano cadendo le palle quindi da lì è nata un po' con la questione quindi già vedere Ciccio Gamer che commenta una poop su Dario mi ha fatto molto ridere poi il Ciccio Gamer che commenta una poop in generale dice ah ah che ridere no così lui che notoriamente almeno per quanto mi riguarda mi ha fatto già strikeare i due canali non so se a te ti ha toccato Ciccio Gamer no no anche perché non l'ho mai toccato io quindi siamo stati sempre alla larga no però a me di te mi ricordo come no a me si si mi ha simpaticamente detto che tra l'altro un cazzo di video di dieci secondi mi ha fatto avere lo strike esatto perché faceva anche ridere se dobbiamo dirla tutta no però la mia vendetta è stata che poi Felix ha messo quella stessa gag in un video più lungo e lì non ha potuto dire un cazzo perché la scusa con me era che io avrei ricaricato il suo video cioè non avrei fatto quasi nessuna modifica perché non c'erano modifiche video evidenti e quindi non era una poop era considerabile un ricaricamento così ho detto beh ma io ricordo che invece tu l'avevi usata o ho visto un'altra cioè ho ricordo un'altra poop ma io ricordo che tu gli effetti li avevi messi comunque ma correggimi se sbaglio ma qualcosa avevo messo effetti audio non avevi letteralmente preso e basta incollato io ricordo qualcosa avevi fatto c'era i bocchi che si allargavano lui che piangeva no quella è quella di Felix ti ricordi la versione che è ancora lì è un video meraviglioso e me ricordo letteralmente cioè tu che la pubblicasti e da lì la vidi quindi non so ma forse l'avrò ricondivisa su facebook perché è una delle poop quella lì è una delle poop migliori che veramente è come i soprano cioè io i soprano li riguarderei a oltranza non la riguardo perché faccio passare quei sei mesi perché così me la dimentico un po' e poi me la rivedo che rido ancora più forte è meravigliosa ma la mia gag no quella che mi segnalò Ciccio Gamer era una gag semplice che appunto poi è stata ripresa da Felix e resa in maniera leggermente diversa ma fondamentalmente il senso è lo stesso dove c'era Ciccio Gamer che piangeva e diceva siete delle merde e poi partiva l'audio di Giuseppe Simone che diceva ma delle merde senza offesa ah ecco ecco sì ed era il titolo era il titolo era una cosa tipo la storia si ripete sempre due volte una citazione a Marx insomma una cosa abbastanza particolare la prima come tragedia la seconda come commedia quindi era il senso era questo insomma e comunque non è piaciuto mi arrivò proprio tra l'altro segnalazione manuale fatta da il network che non mi ricordo nemmeno più come si chiama tra l'altro network sfigatissimo che io tra l'altro mi aveva presi pure con loro li paragonai alla mafia tutte queste cose poco simpatiche quando poi loro sono stati i primi nel momento in cui Ciccio Gamer ha fatto due soldi li ha mandati a fare in culo si è fatto il suo network eccetera però un po' di karma insomma ci sta comunque quindi mi ha fatto ridere ulteriore layer per questa per questa battuta poi come non ho potuto evitare di fare un commento a questa situazione pure commentare oh mio dio non l'avevo vista mica no perché cioè io stavo là e ho detto no ma che cazzo i commenti sono e poi ci sei ritieni tu sotto e facevi oddio ah ecco poi il terzo layer che vergogna cioè io quando arrivo ai commenti miei sotto a persone che non mi inculo più si può dire tanto sì c'è una vergogna c'è proprio un servilismo vabbè no ma il terzo livello Emilio Fede il terzo layer no ma non è tanto quello il terzo layer è che hai detto a Ciccio Gamer ci siamo visti a Romics che Ciccio Gamer e Romics sono diventati poi una 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 col senno di poi esatto cioè c'è stata un po' questa cosa cioè veramente commenti invecchiati male da ogni parte bellissimo c'è veramente una combo che non penso che ma poi tra l'altro 105 mi piace ma chi cazzo è che veda ah ma pure Dario aveva commentato vabbè sì Dario figurati insomma tra l'altro io diversi me li commentano tra l'altro tu non so se lo no non credo che non te l'ho mai detto io ho cominciato a seguire Dario grazie a te nel senso che dal video che hai fatto dove Dario parla di me io poi l'ho conosciuto come perché l'ho cominciato a seguire me ne parlavano molto gli amici mi dicevano guarda che c'è questo youtuber che ti che ti ha citato un paio di volte ho fatto ah ok e poi mi diceva guarda che c'era questo mio amico in particolare il mio miglior amico del liceo mio compagno di banco che mi diceva guarda che c'è questo youtuber molto bravo io e lui parlavamo spesso di Digimon e mi diceva guarda che lui ne parla ne ha parlato ha fatto questo video sui Digimon però io ero molto chiuso nella mia nicchia all'epoca quindi era difficile che andasse a scoprire nuova gente quindi ho lasciato stare poi quando tu facesti il video al raduno uno dei raduni sì sì e mi uscì e dissi minchia cioè è anche bello comunque sentirsi così tanto essere messi in considerazione tra l'altro era il periodo in cui non facevo più video eccetera quindi dissi beh dai è carina sì perché ricordo lì lui disse proprio per favore ritorna voodoo bambino dice in italiano letteralmente torna voodoo bambino sì perché poi dicevo sempre questa cosa di cambiare nick 3000 volte di fare queste cazzate senti allora io vorrei vedere questo video tu lo stai vedendo adesso nella condivisione io vedo sempre Dario scarica Vegas sì con lo schermo nero ok ok allora fammi sapere se ci sono problemi io lo metto vai non lo vedo da un po' quindi il cringe ci può stare no ma che cringe eh questa scritta è incredibile le campane tra l'altro vedi chi l'avrebbe detto che a distanza danni non lo vedo Grazie a tutti. Esiste anche il video show. E poi dall'altro quel video sopra in alto a sinistra non c'è più. Lui l'ha tolta. Perché era il video dove parlava dei classici Disney. Lui l'ha tolta. Lui l'ha tolta. Lui l'ha tolta. Che meraviglia. Come abbiamo potuto tutti sentire è stonatissimo ovviamente. Vabbè ma sì. In realtà no vabbè no. No comunque allora due cose. La prima purtroppo credo che non possiamo vedere altri video perché c'è stato. Io avevo aperto già Chrome e ho visto che i frame andavano abbastanza bene. Appena ho fatto partire il video i frame sono droppati. Addirittura 9 frame al secondo. C'è una cosa terribile. Quindi purtroppo ci abbiamo provato ma mi sa che il problema è proprio questo. Non so il motivo perché più volte ho fatto questa cosa. Comunque mi sa che appunto non è cosa. Per rendere la live godibile a tutti dobbiamo per forza di cose fare una chiacchierata. E vabbè facciamo una chiacchierata insomma. Si è sminchiato un'altra volta tutto. Fammi rimodificare di nuovo. Mentre stavo dicendo il fatto che si sia sentito. Cioè hai fatto esattamente quello che dicevo prima. Cioè la parte musicata non era necessariamente una parte perfetta. Erano molto spesso parti che hai messo chiaramente perché ti facevano ridere. E quindi hai pensato fosse una buona idea far ridere anche il pubblico. Ed è una cosa apprezzabile rispetto a mettere appunto la musichetta perfetta. Che però di contro. Ma guarda anche perché comunque onestamente parlando. Quello è un video del 2013. Io all'epoca davo veramente. Cioè quello era il massimo che potevo dare a livello di tecnica di capacità. Cioè fare la voce principale sopra. Il lead voice. E ogni tanto ho visto dei bassi che stavano sotto. Lui che faceva. Quella roba da videogame. Kigen. Ma più di questo anche perché non sapevo fare io. E quindi non potevo proprio mettermi anche volendo lì a fare altri strumenti. Quella è una cosa che mano a mano col tempo ho voluto provare a fare. Però ecco parliamo di 2013. E quindi ci sta comunque che si cresca appunto anche su queste piccole cose. Per me io capisco anche quel pubblico perché poi lo vedo sia da una parte che dall'altra. Io sono sia pubblico che diciamo spettacolo e quindi mi rendo conto di quello che la gente mi chiede e anche di quello che mi aspetto dagli altri. Insomma per me questo è un video godibilissimo. Io me lo rivedrei tranquillamente. Ci sta che possa piacere anche roba che chi l'ha fatta considera superata. Però per quello dicevo all'inizio secondo me dovremmo imparare a essere un po' meno severi con noi stessi. E' fieri di quello che abbiamo fatto. Per esempio io il video di Rossana, il primo, l'ho rifatto. Feci l'errore di rifarlo completamente e dissi no adesso quel video di Rossana effettivamente non ha molto senso. Come l'avevo sentito smixato perché è stato giustamente uno dei primissimi video che ho fatto. Lo rifaccio, lo rifaccio per bene, lo faccio così così. Alla gente non è piaciuto perché modifica troppo quello che era il ricordo iniziale. Può essere anche migliore tecnicamente però qualcosa lo perde. Può essere più lungo, più completo eccetera però qualcosa la va a perdere. Invece quando ho fatto il remake appunto, quando ho fatto il video su Robby Rotten non solo ho praticamente, c'è un sacco di materiale nuovo perché praticamente c'è tutta la roba su We Are Number One e all'interno c'è la parte che riguarda appunto il video su Se è un Pirata. La parte che riguarda Se è un Pirata è un remake del mio video. Ma è un remake, ho cambiato molte cose ma il video originale è sempre lì. La gente se se lo vuole vedere se lo va a vedere. Ovviamente coglie le citazioni, le cose che sono cambiate, le cose che non sono cambiate però devi anche avere rispetto, devi rispettare il rispetto che la gente ha per il lavoro che hai fatto. Con questo sto d'accordo, sì sì. Sì, ma anche perché infatti ecco come dici pure tu ognuno di noi credo abbia un tipo di pubblico numeroso o non numeroso che sia però c'è un tipo di pubblico devi sempre vedere se hai uno stile devi anche, ovviamente liberissimo ognuno di fare quello che vuole se fa ridere a te per primo, io lo dico sempre però magari guarda allo stesso tempo pure quello che il pubblico ti sta dicendo perché se al mio pubblico diciamo può piacere una pub più vecchio stile io ci vado a nozze perché a me quella piace se mi chiedesse guarda fai un altro genere fai le esplosioni a parte il fatto che non le saprei fare la seconda cosa non divertirebbe nemmeno me farle e dopo lì soprattutto si vede se hai fatto una cosa che non ti piace si vede subito ha il risultato finito non ci metti la passione non ci metti insomma il cosiddetto cuore nel fare le cose e dopo lì si vede però ecco lo stile lo puoi anche cambiare dipende poi dopo quello che ti viene fuori sì sono d'accordo l'importante è sempre fare quello che poi in realtà io quando ho cominciato a fare i twitch questo discorso si riallaccia a questa cosa perché ho detto la stessa cosa cioè ho detto secondo me il fatto che che tu sei stato seguito per tanto tempo dalla gente per un prodotto che tu hai fatto significa comunque cioè il prodotto che tu hai fatto è sintomo del tuo senso dell'umorismo del tuo modo di vedere le cose e di un messaggio che tu volevi mandare se fai della satira su un politico è perché volevi far capire quella cosa se tu hai fatto dei video no sense è perché volevi trasmettere quel tuo senso dell'umorismo quindi fare alla fine ecco anche se non ti conoscono personalmente ma in un certo senso ti conoscono e quindi hanno capito delle cose di te perché tu gliele hai comunque comunicate quindi è anche interessante secondo me questo 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 meccanismo e poi appunto quando sono passato su Twitch c'è stato il contatto con persone che magari non mi avevano mai sentito parlare per quanto avessi fatto quei due o tre video dove mi mostravo in faccia eccetera ma comunque su Twitch c'è un'altra cosa perché hai un engagement diretto con la gente perché la telecamera non è così tanto puntata come quando la metti lì e ti registri eccetera ma soprattutto perché appunto se più si tendi a essere per forza di cose sincero perché non puoi stare un'ora o due ore a parlare senza che esca fuori il vero te stesso non ce la fai e quindi e quindi automaticamente escono anche quelle cose lì cioè quel modo di fare quelle cose che tu avevi messo praticamente il video prima faceva da tramite per il messaggio che tu volevi mandare e adesso parli senza nessun filtro cioè parli direttamente alla gente spieghi tra l'altro ecco una cosa che mi è piaciuta fare che mi piace spesso fare è proprio questo cioè spiegare alla gente che cosa volevo fare con i video perché molto spesso sai l'umorismo tendeva a essere un po' criptico cioè tu magari metti quella gag perché dici a me fa ridere questa cosa perché voglio intendere questo però molto spesso la gente la cosa sfugge e quindi stai lì magari anche con la speranza che dici e vai metterò questo video tutti commenteranno quella cosa invece nessuno la nota esatto bene sì 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 una volta ebbe un dubbio atroce fino alla fine della pubblicazione appunto sul video di Villaggio con Lino Banfi e Paolo Villaggio fino all'ultimo fu indeciso se mettere o no la scena ma che dura tipo due secondi di Stefano Cucchi il pezzo quella è geniale come si chiama lì era un po' su oddio lo metto non lo metto alla fine ho detto sì dai tanto o tutti insulteranno o non lo noterà nessuno insomma alla fine ho deciso a parte il fatto che io quando la vidi ti dissi cioè già il fatto che tu pensi che Lino Banfi negli anni ottanta mi sembra dovrebbe essere il mio film di Fracchia quindi non prestissimo però comunque in un periodo ecco gli anni di piombo ha fatto in un film comunque di comicità abbastanza leggera ha fatto una battuta del genere di base già è una cosa abbastanza pesante significativa perché sai uno quei film diciamo i filmetti anni ottanta li tende a considerare poco invece minchia è una bella battuta con un bel sottotesto e poi appunto l'aggiunta che la moderna cioè è fantastica è perfetta sì tra l'altro cioè mesi sempre per sottolineare l'effetto di com'è che si chiama l'effetto che ti procura quella cosa non ricordo vabbè misi il sottofondo proprio di Scarica Vegas del Keygen di Sony Vegas quindi sempre quello l'effetto di come si chiama mica mi viene in mente quando ti si prende la l'epilessia esatto esatto ecco era quello che mi veniva quindi fino all'ultimo ho pensato boh sarà troppo spinta sarà troppo black humor che ne so però beh mettiamolo visto che blob ci guida sempre dall'alto vediamo un po' ma guarda soprattutto in queste cose secondo me l'importante è che tu fai cioè non esiste il troppo esiste quello che piace a te poi al massimo avverti per esempio ecco il video che ho fatto il mio ultimo video che ho fatto e che ho caricato oggi è molto diciamo è molto esplicito e molta gente questa cosa non piace in realtà anche io soprattutto nelle pop secondo me fa molto più ridere è diventato un meme se ci pensi la scritta bianca ascensoride su sfondo nero mentre c'è una ripetizione cioè la utilizziamo tutti ma nessuno l'ha mai chiamata meme nessuno gli ha mai dato un nome cioè è una cosa è un meme che noi non di cui non non riconosciamo l'esistenza però di fatto è un meme e fa molto ridere cioè è eterno la trovi nei video del 2009 la trovi nel video dell'altro ieri cioè è sempre non è cambiato niente è un mezzo sì sì e quindi anche quello cioè che non ti fa vedere niente ma ti fa capire oppure a me faceva molto ridere quando piuttosto che completare che non so se ti spixare una bestemmia magari ecco quello è volgare perché la vai proprio a cercare te la vai a fare a meno che non vuoi fare un effetto bomba particolare un effetto che proprio sciocca la gente se tu la lasci intendere poi metti il bip fa più ridere secondo me però hai ragione verissimo condivido in pieno infatti già da qualche anno che non le uso più vedo nei video altrui che quando fanno il bip proprio per farti capire guarda lo sta dicendo fa ancora più ridere è bellissimo sta cosa sì 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 ma anche nelle semplici parolacce a me viene in mente Giaccomatto quando fa questo arc erogatore del cabbi di hobby cioè lì è bellissimo esatto esatto a me ancora fa ridere oggi sì 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 no allora poi dipende dalla scelta perché ecco invece il video che ho fatto oggi è basato praticamente solo su quello quindi cioè sui doppi sensi sulla volgarità e allora ho detto che senso ha mettere è un video solo audio quindi ho detto che senso ha mettere insomma queste cose questi bip queste censure ho detto vabbè ma a molti magari non piace io lo dico prima insomma quindi che dobbiamo fare certo hai visto sempre il disclaimer iniziale sì no ma perché tanto tra l'altro sai non facendo nemmeno più video in maniera costante la gente ormai cioè chi mi segue lo fa proprio per veramente per passione insomma quindi dopo tutti questi anni dopo tutti questi anni tutti questi ban chi mi segue perché veramente gli interessa quindi non penso che soffende per un paio di o meglio per una situazione un po' particolare comunque ti volevo chiedere il motivo per cui in realtà poi avevo detto che ti volevo invitare era proprio per il quanto riguarda il video a cui io sono molto legato che era il video su Alice come prima allora quindi da quello che mi hai detto in live è un problema legale fondamentalmente giusto cioè nel senso ti hanno tolto il video perché conteneva spezzoni del video di Alice fondamentalmente sì nello specifico me lo tolsero ma anche di recente tra virgolette recente quindi tipo da un anno circa forse gennaio 2020 proprio me lo tolsero su richiesta legale a quanto pare di questa persona che neanche ricordo il nome che comunque stava a capo della della difesa della famiglia cantone in generale cioè proprio famiglia per intero da quello che avevo letto poi nel disclaimer che mi era apparso quindi questo ricordo solo era nome femminile ma giuro non ricordo chi fosse quindi cioè io l'ho interpretata molto semplicemente ok è una legale della famiglia cantone e probabilmente sarà così io non lo so quindi arrivò questo avviso l'unico vero disclaimer grave che ho tutt'oggi ultime parole famose pure qui quindi fu dovuto a questo ma pur non parlando di lei cioè neanche non era più scritto nel titolo nemmeno ormai il nome di lei e nel video non so se poi tu vorrei metterlo ora nel video solo una volta si dice il nome suo tramite quello di Alice come prima perché poi nel video non accenna proprio nulla e quindi come ti dicevo anche in privato era un video e poi chi l'ha visto se lo ricorderà era un video dove si prendeva in giro se vogliamo dire così unicamente chi veniva intervistato su questa questione e veniva intervistato in un modo molto molto alle iene cioè lui che stava lì col microfono diceva ah ora andiamo a intervistare quello chissà cosa penserà di lei per fare la battutina per tirare il gomito ma guarda io lo vedo come si chiama te l'ho detto io prima te il nome aspetta Andrea Andrea esatto io lo vedo abita nella mia zona lo vedo ogni tanto da anni lo vedo che ogni tanto lo vedi per strada soprattutto ai tempi quando ha fatto il video adesso non si vede più tanto perché poi è andata le iene eccetera comunque lo vedi veramente ma io lo dicevo così per te prima le iene ha collaborato con le iene non mi sembra che sia andata benissimo perché se ti ricordo ha fatto giusto uno o un paio di servizi e poi non è andata avanti questa cosa e praticamente quindi stava in mezzo alla strada con la ragazza doveva essere credo la fidanzata insomma che gli faceva da cameraman e fermava la gente per strada come a volte capita che fanno i giornalisti e faceva qualche domanda poi il napoletano è sempre pronto quando vede una telecamera ci si fionda e fa il personaggio specie se magari ecco è giovane poi l'ho detto il ragazzo che faceva il famoso meme oh sì è anche quello purtroppo io l'ho ripreso ma ha avuto poco seguito ma a me fa morire anche perché è una cosa che si dice talmente tanto spesso che è veramente facile farci un meme sopra era è compagno di classe di mio fratello è venuto a casa mia un sacco di volte insomma quindi era un video in cui io avevo che a cui ero veramente affezionato insomma e non quello di Alice perché sti cazzi che Alice intervista uno che conosco ok Alice stava qua sta sempre tra l'altro in questa strada stava sempre qua vicino quindi non è questa grande cosa la cosa bella è vederlo in una poop quindi appunto anche lì però purtroppo diciamo che purtroppo quando si mettono in mezzo questi casini legali io appunto l'ho detto a te l'ho detto anche in live mi sembrava la volta scorsa cioè purtroppo quando anche a me è capitola la stessa cosa per quanto riguarda il video di di fibra cioè per perché fibra dissa Laura Chiatti e Laura Chiatti denuncia fibra allora fibra deve far togliere tutti quanti i vecchi video altrimenti pagano a penale e quindi ci vado di mezzo io che ho fatto una poop su un video che non si può più fare va bene che poi tutto questo la versione la versione nuova comunque non si può ricaricare perché fibra rompe il cazzo quindi non si può ricaricare che poi non credo sia di fibra perché dovrebbe essere perché fibra c'è una questione particolare con con i tizi che hanno i loro diritti quindi è cioè i diritti ha cambiato case discografiche quindi sì c'è anche là un casino comunque la questione per quanto riguarda il mio video è appunto simile al tuo insomma allora io il video lo farei vedere il problema è che ho paura che possa crashare tutto quindi temo che avere discord aperto e il video lo faccia vedere a scatti quindi sarebbe proprio un peccato un video che non si vede da una vita insomma se ti va io direi chiacchieriamo qualche altro minuto poi chiudiamo la chiamata e e lo faccio vedere però mi dispiace anche se mi dispiace farlo ah ok no perché mi dispiace farlo vedere senza di te insomma però purtroppo ma vabbè lì vedi tu il padrone di casa sei tu l'alternativa è che ti ho detto perché non non sta reggendo la connessione quindi l'alternativa significa farlo vedere a scatti e onestamente è anche un peccato perché capito la gente lo vede cioè è una vita che non lo vede io per esempio appunto era non sapevo nemmeno perché sai poi non andrò a cercare tutti i giorni non sapevo nemmeno che l'avessero tolto quando avevo questo ricordo quando l'ho cercato e non l'ho visto ho detto vedi l'hanno tolto quindi riaverlo anche perché sì no anche perché in quel caso la parte mia è stato più comprensibile il fatto che me l'avessero tolto per quel motivo lì da determinate persone e ti giuro rispetto a quello ci sono rimasto più male all'epoca quando invece quella persona lì Andrea mi contattò dicendo che avevo fatto un grosso errore perché non dovevo prendere un video suo questa cosa non la sapevo questa cosa non la sapevo racconta rimasi più male lì perché non me l'aspettavo però lì da come si era posto lui avevo intuito che non era magari avvezzo al mondo delle poop quindi ero stato lì a spiegargli guarda una poop sì hai ragione in parte mi dispiace ho sbagliato io non ti ho chiesto nulla però non l'ho ricaricata interamente la tua intervista anzi ho rimontato tutto quanto ti ho linkato ovunque video tag ovunque ma lui cioè io ricordo quel periodo era proprio non voleva sentire ragioni anche perché dopo lui la pose in un altro modo cioè tu hai stravolto il senso delle mie interviste e grazie al cazzo è umorismo cioè era letteralmente umorismo era rimontaggio parodia come lo vuoi chiamare oltretutto io alla fine del video che metterai dopo monto una frase che lui in realtà non dice propriamente lì in quel video è un peccato perché appunto l'originale l'ha tolto in pratica vabbè io faccio dire a lui ciao Camer mi raccomando mi raccomando ragazzi non sfuttanate Tiziana che glielo faccio anche dire quindi ti sto anche salvando tra l'altro una cosa del genere quando invece in realtà l'intento suo iniziale io me lo ricordo bene l'inizio del video suo era andiamo a vedere in giro tra la gente gli effetti di lei sulla gente sì a fine video invece faceva tipo la morale mi raccomando non fate questo questo quest'altro però in ogni intervista ogni persona che ha intervistato andava proprio letteralmente lì a tra virgolette stuzzicare a dire eh ma dai che l'hai visto dai che l'hai visto dai dai di bravo di bravo è il modo di fare di strisciare la notizia che da una parte si pone come satira da una parte si pone come satira come quelli che portano la divulgazione eccetera con questa scusa e con questo scudo che per cui nessuno gli può dire nulla perché se lo fai non stai capendo la loro satira e loro anzi voler fare divulgazione e allora possono dire fare quello che gli pare esatto tra l'altro adesso poi si piccano appena appena gli fai notare qualcosa no ma poi allora tu come in generale ma non è per Andrea così ma gli idioti no ma ci mancherebbe no le riconosci perché non hanno senso dell'umorismo e io mi sono sempre cominciato a preoccupare cioè dopo un po' che la gente mi cominciava a segnalare a segnalare nemmeno quando mi commentava incazzata cioè il famoso caso di Salamino che era un tizio sconosciuto che ha fatto un provino per X Factor e è andato malissimo per qualche motivo perché mi piaceva il nome me lo misi nel titolo di X Factor in una delle volte che l'avevo ricaricato sempre specchiando fare perché lì me lo segnalavano per copyright lo misi nel titolo feci l'errore di metterlo nel titolo e il video arrivò a lui e lui mi contattò dicendo questo io non ho detto anche a lui io non ho detto queste cose beh sì questo è un video ironico eh però ho detto beh senti ci sono sono dieci secondi di video sono dieci secondi di video in cui compare leviamolo da mezzo perché non voglio rotture di palle con gente simile è inutile anche cercare di fare un ragionamento sensato con loro è inutile che stai ore a ripetere lì guarda una parotia non c'entra niente quello che hai detto tu è una mia opera dal momento che la modifico eccetera eccetera tant'è vero che io ricordo all'epoca dopo vari ragionamenti mi bloccò comunque lui e quindi da quel momento non avevamo avuto più modo di sentirci io non avevo più modo ma ora che me la stai raccontando mi ricordo che ne avevamo parlato probabilmente sì perché io ti ricordo ti dissi è strano io ce l'ho tra gli amici comunque di facebook quindi ci avrei potuto parlare perché ora questa cosa me la ricordo comunque non mi avevi detto approfonditamente però mi avevi raccontato qualcosina comunque no purtroppo sta gente il problema è che siamo cresciuti perché tu dici vabbè sono normi non capiscono le poop non si rendono con le poop che tra l'altro ecco Paolo io ero rimasto che ci aveva avuto 150.000 iscritti invece lui ieri ha fatto la flexata che ha fatto 30.000 iscritti ne mancano ancora 230 quindi lui era arrivato a 250 300 non so quanti quindi Master Giorgio ha 150.000 iscritti sì Frederick ce ne aveva 500 400 non lo so nemmeno comunque dire fenomeno di massa ormai è dire poco tra l'altro cosa unicamente italiana perché numeri del genere in America si bisognano ancora fenomeno unicamente italiano quindi a maggior ragione tu dovresti avere dovresti sapere che cosa sono quindi non è tanto la questione diciamo beh questo è normi come fa a non capire questo senso dell'umorismo il problema è che appunto siamo una generazione dove molte persone di noi sono cresciute con il berlusconismo quindi con le iene con mi viene dato il grande fratello ma in realtà il problema è lato il problema vero è striscia la notizia e tra l'altro io ho qua una cosa che non ho mai fatto vedere io quando feci mainstream quei video che erano palesemente troll io mi ero preparato una cosa che appunto che stava a rappresentare in maniera palese il male che però doveva essere una cosa che doveva stare nella scenografia e nessuno doveva vedere non l'ho mai utilizzata è rimasta per anni qua ed è questa no non ci credo questo è un è un ritaglio di giornale che io mi si in questa cornice d'argento ed è rimasta qui è diventato un portafortuna comunque bellissimo cioè questo qui diventerà nuovo meme per forza e quindi rappresentava no anzi no la gag ora che ci penso doveva essere che io facevo una battuta tipo io non ho santi in paradiso una cosa del genere e poi c'ero io che avevo un altare tipo sai non so se sei presente quella gag di Guzzanti quando c'è Ratzinger che scende in Vaticano e sacrifica il pollo agli dèi queste cose qua doveva essere una cosa doveva esserci un altare pagano e io che facevo le offerte a Antonio Ricci con la fotografia di Ezio Reggio queste cose qua insomma quindi appunto purtroppo molta gente è cresciuta non solo non avendo quel disprezzo per questa quel tipo di umorismo tra virgolette quel tipo di comicità e quel tipo di comunicazione soprattutto ma addirittura ha avuto cioè ha guardato quelle cose e ha detto io voglio fare questo io voglio essere così e lì c'è un problema di fondo perché con quelle persone che hanno tra virgolette ragione nel senso che che loro hanno inconsciamente una volontà di andare in una direzione quindi loro no c'è sempre il modo di dire ognuno pensa di essere il buono nella sua situazione loro vogliono fare una cosa nella vita perché non riescono a comprendere quanto in realtà sia distruttiva quella cosa insomma per la società e per tutti e quanto lo sia stata fondamentalmente perché ecco Berlusconi passa ma i danni rimangono fondamentalmente a voglia mi è riempita di a voglia cioè le viene ieri ieri proprio Dario ha fatto vedere che hanno fatto un servizio dove parlavano dei problemi di rabbia su internet dovuti ai troppi giochi e hanno messo uno spezzone di tipo 5 secondi del masseo che si incazza senza chiedergli nulla senza fare e beh tipo dopo il discorso inverso esatto senza chiedere nulla quelli ancora oggi va di moda il dire ah la rabbia i videogiochi non credevo no ma perché il pubblico è boomer perché in Italia siamo tutti vecchi i giovani sono pochi quindi queste cose entranno avanti per almeno altri 30 anni fino a quando non muoiono gli attuali 50 anni che ancora credono a queste cazzate ma pur non giocando più io te lo dico però comunque nel 2021 addio ancora che a GTA picchi quelle persone io ci ho pensato qualche tempo fa che ho fatto vedere le megatoniche avventure e a un certo punto c'era uno spezzone di un tizio che diceva che parlava c'era questo servizio giornalistico dove intervistavano questi ragazzini di 13 anni che parlavano di GTA sei un mafioso ammazzi tutti queste cose e appunto lo guardavo e dicevo io l'ho preso per il culo ci ho messo sotto le voci dei semi brutal degli emo perché per rendere il senso era proprio quello cioè rendere ridicolo una cosa che ridicola già è tu lo rendi ancora più evidente e lo rendi proprio platealmente ridicolo insomma fai una farsa perché quella è una farsa e quindi rendi evidente che quella è la tua idea con la comicità tu rendi evidente che quella è l'idea che tu stai avendo in quel momento guardando quel video ma appunto cioè le Iene l'altro ieri hanno fatto un servizio ancora su questi temi quindi di che parliamo il problema infatti è per quello che non riesco a seguire questi programmi non ce la faccio più prima era un'altra epoca eravamo forse più piccoli e allora li seguivo un attimino di più ma adesso proprio non riuscirei a sta un minuto lì perché sono consapevole che usano quella tecnica per o sfruttanare altri o per anche quando fanno quegli scherzi veramente alcuni sul filo dell'accanimento su una persona poi il fatto che usano le risate registrate sotto in modo così esasperante la vedo come una cosa ancora di scolastica il punto del dito guardate quello lì come si sta preoccupando guardate quello piange perché abbiamo fatto uno scherzo che facciamo così non mi piace quella roba il motivo per cui vengono utilizzate ma tu hai studiato comunicazione mi hai detto quindi queste cose le saprai meglio di me cioè il motivo per cui esistono le risate registrate vengono utilizzate quando il senso della risata non è evidente e servono ad ammaestrare il pubblico per far capire che devono ridere fondamentalmente anche perché ridendo rilascia endorfine quindi in un certo senso hai la sensazione di aver visto una cosa divertente anche se non è quello il caso esatto e soprattutto è molto più facile mettere qualcuno in ridicolo se tu ci metti le risate in sottofondo fondamentalmente certo non ci vuole nulla veramente nulla che poi molto spesso appunto è l'obiettivo principale insomma di questa gente piuttosto che fare cose particolari cioè piuttosto che fare come già è sempre io ricordo all'epoca ecco gli ultimi albori delle iene che vedevo io quindi andavo al liceo erano i primi anni del liceo c'erano ancora Lil e Greg a fare le iene e loro avrebbero potuto fare servizi tranquillamente senza risate registrate perché erano talmente no sense talmente esilaranti che andavano in giro con la chitarra mi pare andavano addirittura da Andreotti andarono lì che c'erano via malamente quella che ho rivisto recentemente il Divo secondo me quella parte in cui loro vanno da Andreotti dove il filmato vero non dovevano rifarla dovevano mettere come fine del Divo cioè sarebbe stato perfetto è meraviglioso loro sì c'è umorismo ecco c'è anche da dire che molta gente c'è passata per le iene c'è passato Mamucari c'è passato mi sembra anche Bisio però l'idea generale del programma cioè il problema non è non sono tanto le iene il problema è quel tipo di comicità o meglio quel tipo di intrattenimento perché parliamo di intrattenimento che uno si propone come giornalistico quando non lo è due è sempre al servizio di qualcuno qualcuno che ottiene un potere enorme da questa cosa siamo sempre lì tu non so se hai mai visto i video di Ricca Piero Ricca che era questo giornalista io l'ho fatti vedere in live perché li misi li inseri in alcuni spezzoni nelle megatoniche avventure allora feci uno speciale berlusconismo degli anni 2005 2009 perché era appunto per spiegare molte cose che poi mettevo nei video e appunto c'è questa questa intervista che si può è ancora tranquillamente godibile cioè è il cringe cioè letteralmente il cringe quell'intervista ma è interessante vederla ancora oggi che lui fece a creare le interviste in realtà cioè lui andò direttamente da Antonio Ricci e Antonio Ricci reagì reagì bene tra virgolette ai suoi stessi metodi perché l'ha inventato lui quindi figurati se non si mette a falso risetto a buttarla tutta in caccia spara reagì in maniera perfetta tanto che ne esce male ricca alla fine da quell'intervista esatto volevo dire proprio quello infatti ricordo bene alcuni commenti addirittura sotto quel video che dicevano guarda stavolta ne sei uscito male tu perché lui ti ha battuto sul campo suo sull'esperienza sull'esperienza né più né meno lui è stato lì ha incassato se n'è stato zitto quando ha dovuto da le botte lui ne è uscito vittorioso perché lui non gliene frega letteralmente niente e lì ti dice bene perché per come la vedo io se hai la sfortuna di andare contro Antonio Ricci è finito cioè lui ti rovina l'esistenza se poi trovi qualcosa di tangibile contro di lui è finita cioè lui passa la vita le notti intere credo a a studiare la vita tua a demolirti il giorno dopo nel servizietto del fuori onda guardate lui che ha detto fuori onda ha detto nana quella lì no ma anche senza guarda ha avuto ha avuto negli anni un potere talmente grosso io lo so per varie motivazioni interne diciamo che non ha nemmeno più bisogno non ha da tipo dopo i primi dieci anni di striscia la notizia non aveva nemmeno più bisogno di dire diciamo che ha fatto chiudere programmi che andavano bene facendogli cambiare fascia oraria perché toglievano spettatori a striscia e ci sono conduttori che ora non lavorano più in Mediaset perché appunto lui ha creato questa situazione e lavorano da altre parti perché ha la fascia diciamo preserale non gliela davano più perché Antonio Ricci non voleva e questo mi hanno detto ovviamente non voglio sapere niente degli avvocati di Antonio Ricci però comunque in generale da una parte immagino il problema è sempre che l'uomo ha le sue non voglio fare il filosofo però ci sta che tu lavori in un'azienda da 40 anni e quindi ti danno dei vantaggi rispetto agli altri che sono più giovani più inesperti anche perché il tuo programma comunque ha successo il problema è che è abbastanza palese che lui abbia cioè non è un cretino Antonio Ricci è una persona abbastanza colta quindi è evidente che lui queste cose le fa volontariamente e lui sa bene di avere credo il potere mediatico italiano più di Berlusconi perché Berlusconi ha le mani legate perché è la figura principale Antonio Ricci domani potrebbe infatti spesso lo fa quando ricordo qualche anno fa faceva sempre le battutine a favore ecco le battutine a favore ha inventato Antonio Ricci cioè quelle cose così che prima le faceva Berlusconi perché così poi improvvisamente sono passate su Salvini tutte quante questo tipo di battutine qua no perché c'ha ora i suoi interessi le sue cose insomma il problema è quello cioè che poi alla fine avere un monopolio di potere è anche abbastanza dannoso vabbè poi stiamo facendo una discussione stiamo andando sul politico che si sta facendo tardi mi sto anche abbastanza stancando tra l'altro non ho visto neanche l'orario vabbè vieni tu qui vabbè vabbè farei vedere il video che dici è così sì come vuoi dai allora ci salutiamo qui sì va bene allora io ti invito come ti avevo già detto prima nel nella nel gruppo segreto nella società segreta di noi su telegram ora ti mando il link così sia appunto puoi tornare quando vuoi che sei sempre il benvenuto e poi anche per chiacchierare tutti quanti ogni tanto postiamo roba insomma e si chiacchiera insomma quindi ti invito insomma adesso ti mando appena finisco la live ti mando il link eh dai figo tra l'altro come dicevo all'inizio nell'altra parte di live è tipo la seconda volta questa che sto su Twitch quindi mano a mano ci si incanala per bene ci si scioglie sai quando è la prima? quando è stata la prima? la prima l'ho fatta l'estate scorsa con Monitor nel sul canale di Monitor aveva fatto sì avevamo fatto un'altra live sempre pomeridiana no mattiniera anzi stavo lì con lui in Toscana quindi abbiamo voluto fare sta cosa no vabbè figo dai ci sta ci sta non è detto che in futuro magari chissà sì ma tu ti lo dico ma me lo dice pure Cabel ma facciamolo anche lì anche a questo serve magari il gruppo facciamo una bella no un bel gruppo ci aiutiamo a vicenda anche perché guarda a me fa piacere essere stato pioniere anche in questo perché mi fa piacere se riesco a spronare un po' di gente a farlo l'importante è la costanza cioè che tu lo faccia una volta a settimana o tutti i giorni l'importante è che la gente sa che ci sei fai le tue cose non ti fai fottere dai numeri ah oggi siamo in dieci ieri eravamo quindici ah no quello assolutamente no perché guarda l'ansia ti viene dopo un po' però è come l'ansia di quando le cose non vanno bene cioè sono quelle cose che tu ti senti addosso e devi imparare a non fartele venire addosso però per il resto insomma è anche molto bello e lo dico sempre molto terapeutico te l'ho detto anche a te prima insomma è veramente io no so d'accordo ora te lo posso confermare e so d'accordo mi fa piacere va bene Stefano allora ci sentiamo nel gruppo ti ringrazio per l'invitation figurati figurati quando vuoi quando vuoi quando vuoi tornare sei il benvenuto a questo punto io auguro a tutti buona visione del video e anche se me ne vado ci tengo a dirlo visto che è un video molto particolare mi dissocio nel dubbio me ne vado visto che dissociarsi desti tempi è sempre un bene si 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 sa mai che quindi ecco vabbè ma me lo ricordo il video è abbastanza tranquillo ok ok perfetto ciao Stefano chiudo io la chiamata ciao ok ciao ciao ok allora adesso non vedete nessuno perché questo perché io devo mettere devo mettere ah giusto non mi acchiappa la web madonna facciamo così ve lo faccio vedere direttamente senza problematiche di di webcam così tra l'altro mi va anche meglio tutta la live non vedete la mia reaction tanto che non è un video mio quindi è è proprio puro cioè ve lo regalo vi regalo il video di Stu mi piace questa cosa tutti voi segaioli avete fatto delle fellazio sui giovani e al di là delle solite parodie di napoletani stronzi gli effetti di tiziana cantone sui napoletani porca mi dissocio e lo ricordavo male vedi c'aveva ragione Stu bravo bravo Stu che l'avevi detto stiamo parlando di tiziana can 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 non la conosce nemmeno lei è lei secondo me lui la conosce un video porno 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 tu non mi basti ma se ti dico stai facendo un video si tu che mi rispondi dico is is sto bene grazie arrivederci se tu mi domani spero che arriverà il culo io come che ti posso rispondere sono culo non so che cosa ti devo dire classami sulla ciocia vabbè oh si california battimi il microfono in faccia sempre proprio una mignota bravo è la morale della favola ragazzi non sputtanate tiziana ma sputtanate la vostra fidanzata perché le rovinate l'opportunità di andare a letto con gli sti cioè perché alle ragazze piacciono gli stronzi 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 complimenti anche a il mare bello ai napoli si tuffa agli pieno lembolo trovi terendo piccolo cantate nel cittadano cennaro fa il milagre fama moriamo così bellissimo bellissimo a parte la parte bannabile ma per il resto insomma vabbè comunque come ho detto a me fa sempre piacere averti qua ospite adesso negli ultimi minuti di questa live che doveva finire un quarto d'ora fa però abbiamo avuto problemi audio insomma problemi video audio tutto abbiamo avuto oggi quindi siamo andati avanti a oltranza mi dispiace forse aver trattenuto stupio di quanto poteva insomma però abbiamo ghiacchierato comunque comunque questo è il mio video che è uscito un quarto d'ora fa dovevo farlo vedere in anteprima invece lo vediamo assieme tutti quanti adesso ed è un video audio su Giorgione una pupa audio su Giorgione l'idea di base è che Giorgione niente guardava i suoi video per chi non lo conosce è un grande chef diciamo di televisivo ha un programma televisivo su Gangbero Rosso e carica video su YouTube e sui suoi social e quando lei le cucina in maniera molto appassionata quindi il motivo per cui ho voluto fare questo video è perché quando guardavo un suo video ho detto senti ma questo sembra cioè secondo me quando scopa scopa veramente come cucina cioè con questo cuore con questa passione con queste parole con questa voce profonda allora da lì è nata questa idea di questo video punto primo non voglio cioè prendere distanze da eventuali offese non è assolutamente offensivo nei confronti di Giorgione di nessun altro è giusto una parodia una cosa comica punto secondo è effettivamente un po' volgare quindi se non vi piacciono questi video mi dispiace ma questo video non fa per voi evitate di guardarvelo sto guardando te alter testo a te non piacciono le battute volgari quindi non lo guardare detto questo cominciamo io ho girato tutta l'Italia ce ne sono veramente centinaia di varietà forse migliaia non lo so ma io da nord a sud ne ho trovate di forme tipi colore sapore intensità per dire questa è crosta gialla poi c'è la crosta di cannara poi c'è la fresca poi c'è la tropea poi c'è quella di Margherita Savoia che sono fatte per dire ce ne sono tante io voglio fare un giochetto prendo queste bellissime palle molto grandi guardate che carine eh e poi le spacco a metà così a lei e poi prendo la stupenda rossaggia e con il ditino diamo una bella spacciottata è molto delicata ma saporitissima ci lascio le bratte fuori però mi piace più questa un pochino più delicata più profumata con qualche fiorellino e gli faccio lo stesso lavoro molto unta è perfetta assolutamente perfetta prendiamo il penne lo spiumo eh come fosse proprio un pollo a strozzo vedete così così e poi così poi un pochino fantastico quindi che faccio grazie a tutti